bentornati bentornati sul plutonia publication podcast oggi puntata particolare non parleremo infatti di un singolo film né di un singolo libro autore e nemmeno di una specifica tendenza come può essere quella dei libro game dei giochi di ruolo come ho fatto nelle puntate precedenti oggi una puntata dedicata alla world building la costruzione di mondi di scenariche una tipologia di scrittura che riguarda sia i già citati giochi di ruoli che la scrittura di narrativa vera e propria a me viene riconosciuta dai lettori dei miei lettori proprio questa abilità più che altre di costruire ambientazioni scenari di fantasia o di fantasia alternativa di realtà alternativa anzi molto articolata e molto credibile io li ringrazio anzi vi ringrazio se mi state ascoltando perché è una cosa in cui mi riconosco e che ho cercato di migliorare proprio dai tempi in cui giocavo come ho spiegato anche in questo podcast ad advanced dungeons and dragons e a tutti gli altri giochi di ruolo in particolare oggi però ci occuperemo del world building relativo ad alcune città immaginarie perché a creare un mondo è molto complicato ovviamente e ci torneremo creare una città può essere solo apparentemente più facile ma non è proprio così però chi è bravo a farlo ha la fortuna di vedere crescere nell'immaginario collettivo questi luoghi di fantasia ma talmente citati e talmente conosciuti da sembrare quasi reali e oggi parleremo di alcune di queste città io l'avevo già fatto sul mio blog molto tempo fa infatti ho ripreso quell'articolo l'ho sistemato mischiato e oggi vi propongo le principali città alcune delle principali città immaginarie ma percepite quasi come reali che molti di voi tutti voi sicuramente conoscerete e le analizzerò in questo modo dirò a che universo narrativo appartengono dirò se esiste qual era il nome originale e su cosa sono state immaginate ovvero sulla falsa riga di quale città realmente esistenti sono state immaginate e poi una breve descrizione partiamo con qualcosa di molto leggero partiamo dalla disney che ha come sapete due città immaginarie arcinote topolinia e paperopoli topolinia allora universo d'appartenenza abbiamo già detto disney il nome originale era mouse town ed è stata immaginata la sua creazione sulla falsa riga di un mix tra boston e filadelfia stiamo ovviamente parlando della città in cui vivono topolino pippo pluto commissario basettoni gamba di legno macchia nera tutti i personaggi di quel mondo lì molti decenni fa veniva indicata in realtà col nome assai più generico di hometown poi è stato cambiato appunto in topolinia mouse town la città si trova nello stato di calisota sulle coste dell'oceano pacifico il calisota stesso un luogo immaginario una sorta di sì di sintesi tra il minnesota e la california topolini topolini è ubicata alle foci del mouse river e fu fondata dai padri pellegrini inglesi nel 1695 i suoi abitanti si chiamano topolinesi ma in realtà il ceppo etnico di maggioranza è rappresentato da umanoidi canidi di colore nero pippo insomma mentre gli umanoidi topi sono in minoranza topolini è il centro economico del calisota ma non è la città più popolosa dello stato questo primato va infatti a paperopoli universo sempre disney nome originale molto singolare a me piace molto è dakbarg dakburg pronunciatelo come preferite ed è stata immaginata creata sulla falsariga della vera los angeles paperopoli è appunto la capitale del calisota con i suoi 3 milioni circa di abitanti è anche la città più popolosa dello stato questi sono i dati principali che si evincono sulla metropoli che ha dati natali a paperone paperino qui qua qua e altri personaggi paperiformi dell'universo disney pensate disegnata sull'urbanistica di los angeles la capitale del calisota paperopoli ha una grande estensione territoriale diversi distretti ben 12 reti di metropolitana il fiume tulburg la attraversa da est a ovest in passato sappiamo che paperopoli fu sconvolta da un terribile cataclisma e poi ricostruita quasi completamente sotto terra esistono ancora le rovine della città originale ora frequentata da criminali di ogni genere tra cui i membri della temibile banda bassotti i luoghi di interesse storico economico e sociale di paperopoli sono molti tra cui il famosissimo deposito di paperone di zio paperoni il club dei miliardari la duck layer tower la cattedrale di notre paper il duck mall center lo stadio e infine ma non per importanza la sede delle giovani marmotte e queste sono le due città principali dell'universo disney datico e vinto dalle varie pagine wikipedia e dei vari siti dedicati appunto al mondo disney perché su internet abbondano queste approfondimenti che io adoro e ora passiamo un altro universo l'universo della dc comic che anche qui come sicuramente sapete ci sono due città arcino due città immaginarie arcinote metropolis universo dc comic nome originale metropolis sempre rimasto quello è immaginata è un mix metropolis è un mix tra toronto e cleveland come urbanistica e new york come humus sociale come abitanti la città di superman di superman è nota metropolis è nota come la città di superman è apparsa per la prima volta nei fumetti nel 1939 come indicato nelle note è stata pensata sullo skyline di toronto su quella falsariga con l'urbanistica di cleveland ma con la popolazione le dinamiche di vita di new york city soprattutto la new york city diurna però dopo spiegherò meglio non ha una collocazione precisa ma viene localizzata sulla costa orientale degli stati uniti dove rappresenta una delle città principali della regione il gioco di ruolo ufficiale dell'universo dc comics la situa nel delaware mentre nel serial tv smallville viene collocata in kansas io sono più fedele al gioco di ruolo viene detto da sempre che simbolicamente metropolis rappresenta la new york di giorno mentre gotham city dopo ci torniamo la città di batman new york di notte frank miller ha dichiarato che figurativamente parlando metropolis è new york dalla quattordicesima strada in su mentre gotham city è new york sotto la quattordicesima strada in realtà però la vera new york esiste nell'universo della dc comic e anche la sede della justice league non vorrei sbagliarmi controllate quest'ultima affermazione passiamo a gotham sempre universo dc comic sempre stata chiamata gotham city immaginata questa sì totalmente sulla falsariga di new york abbiamo già detto molto di gotham parlando della sua gemella luminosa metropolis è in buona parte sviluppata su un'isola collegata alla terraferma grazie al robert kane memorial bridge a nord e al new tree gate bridge a ovest e all'old steam tunnel gotham è una città più antica di metropolis ma subisce ancora oggi il pesante fardello del crimine organizzato che è terrena di caccia per batman la città gotica ricca di mistero ha una storia antica per molti versi nebulosa prima dell'urbanizzazione la zona su cui oggi sorge gotham era abitata dalle tribù di indiani miagani riguardo alla cui scomparsa ci sono diverse ipotesi e speculazioni la città così come la conosciamo venne fondata del 1635 da john logerquist come piccolo avamposto della gran bretagna nel nuovo mondo e crebbe col continuare della colonizzazione dal vecchio continente sin dai suoi inizi però si consolida anche la cattiva fama della città che spesso da inconsapevole rifugio a criminali ai criminali della società e anche aggiungerei super criminali della società viene la popolazione viene stimata attorno ai 12 milioni di abitanti e ora passiamo all'horror genere molto caro chi segue questo podcast perché anche l'horror ha le sue città archetipe immaginarie arkham prima di tutta a che bella arkham universo i miti di cthulhu inventata quindi da lovecraft e immaginata sulla falsa riga di salem impossibile non includerla chiaramente in questa rassegna in questa puntata è una città immaginaria del massachusetts pensata ideata appunto da lovecraft dai racconti del solitario di providence si riesce a localizzarla nord di boston probabilmente nella colonia della contea scusate di essex in più di un particolare arkham richiama salem la città statunitense nota soprattutto per la caccia alle streghe del 1691 non è un caso visto che arkham e il mistero vanno di pari passo la città infatti un passato caratterizzato dai venti cupie funesti è una lunga tradizione esoterica di cui si occupa tra le altre cose la miscatonic university altro punto nodale dei racconti di lovecraft università immaginaria entrata come la città che la ospita nell'immaginario collettivo di milioni milioni di lettori o di semplici appassionati di arkham conosciamo molti dettagli perché parecchie sono i racconti ambientati in questa cittadina o nelle sue immediate vicinanze conosciamo per esempio la classica architettura con case dai tetti a mansard spesso custodi di antiche oscure storie di stregoneria e di fatti di sangue conosciamo anche il nome del quotidiano il giornale locale l'arkman l'arkman advertiser e ancor più abbiamo familiarità col manicomio del posto che appare sua volta in molti racconti di lovecraft insomma dove c'è arkham c'è casa se mi permettete la battuta chiudiamo questa rassegna anticipo incompleta ho voluto citare solo le principali città immaginarie chiudiamo con derry universo il mondo narrativo di steven king inventata da steven king e immaginata sulla falsariga di bangor nel main derry io la giudico nient'altro che la versione kingiana di arkham sei romanzi diversi racconti sono ambientati in questa cittadina del mail del main o quantomeno le loro trame la tangono in maniera importante king ha messo che derry una sorta di trasposizione oscura di bangor dove vive risiede lo scrittore un luogo dove la normalità è spesso di maniera utile sostanto a nascondere orrori e misteri tanto grandi da non poter essere esposti agli occhi di tutti al celeberto romanzo it si deve buona parte della cartografia immaginaria di derry e grazie ai fatti narrati in questo ponderoso romanzo che veniamo conoscenza di luoghi quali la cisterna le ferriere kitchner esplose nel 1906 le campagne dei barren dove i perdenti sia i protagonisti di it hanno il loro covo da ragazzini in cerca di avventure derry è dunque o forse meglio dire soprattutto la città in cui vive pennywise e credo che questo nome soprattutto dopo le recenti trasposizioni cinematografiche vi dirà qualcosa ecco è con derry che chiudo questa puntata ma vorrei dire prima puntata dedicata alle città immaginarie perché ne potrei aggiungere altre forse un po meno conosciute ma non certo meno affascinanti quindi semmai se vi va fatemi sapere se l'argomento vi interessa perché potrei espanderlo anche oltre le città potrei parlare anche di mondi immaginari o di luoghi immaginari citati in libri e film quindi lasciatemi un messaggio o su spreaker se mi sentite se mi ascoltate su spreaker o su instagram facendomi sapere se volete che continui questa rassegna e se vi è piaciuta la puntata di oggi nel frattempo vi ringrazio per essere stati qui e di nuovo se avete voglia fate un po di passaparola al mio podcast che sta crescendo molto e lo sta facendo proprio grazie a voi